Inizio a fare video. Basta, mi sono stufato di nascondermi dietro a uno schermo. Dovete sapere che faccio musica. Ho iniziato nel 2011 e i video che faccio si limitano a questo. Da oggi ci metto la faccia! Ho deciso di non ascoltare la vocina che mi diceva. Non farlo, la gente ti giudicherà. Sicuramente farò un video in cui parlo delle mie paure e delle paure in generale che affronti quando vuoi fare qualcosa. Quando uscirà lo metterò qui. Nei miei video vi parlerò della vita da producer. Potrete seguirmi in questo viaggio, se volete. Questa è la prima volta che parlo ad una telecamera. Fatemi sapere nei commenti come vado, critiche e suggerimenti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie per la visione!